buon packaging a tutti ah che bello andrea è il nuovo mobile bar della bb packaging ma non piace valter è la nostra nuova tp202 reggiatrice semiautomatica reggiatrice semiautomatica e come funziona semplicissimo l'operatore con il leggo della reggia lo fa passare nell'apposita fessura perfetto ma scusa e come faccio a regolare la tensione se lo voglio meno tirato molto semplice abbiamo la nostra manopola che dà più o meno attenzione fantastico e invece la fuoriuscita della reggia dopo che ho fatto la reggiatta automatiche andiamo a scegliere noi di quanto la reggia dovrà uscire ma bellissimo bello 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 mi piace da non dimenticare piano di lavoro in acciaio inox quindi buona anche all'industria alimentare e la possibilità di spostarla c'è assolutamente grazie ai ruotini e al loro blocco per il posizionamento fantastico mi sembra che sia il sistema più economico per poter reggiare dei colli singoli assolutamente per quelle che sono le piccole necessità del prodotto perfetto a me piace moltissimo rimanete in ballo con noi